Grazie, grazie. Dunque, ecco, spegnendo le luci, voi ci vedete. Allora, questa è, intanto vabbè, ringrazio tutti, vabbè, spero di non annoiarvi troppo e spero di essere anche abbastanza sintetica. Questa che vedete è una foto di qualche anno fa, di questa villa, di questo edificio di cui stiamo parlando, e che si chiamava Villa ai Monti, aveva varie denominazioni. O San Francesco Saverio, Villa ai Monti, Villa Maglia, detta perché per il nome della sua ultima proprietaria. Insomma, c'erano diverse denominazioni che possono avere anche un po' confuso le acque, diciamo. Era una delle tante proprietà dei Molfino, che erano una famiglia molto grande, tanto per cominciare, e anche molto cospicua. Vi faccio vedere qualche foto di come adesso, così come l'ha vista Sibelius, perché tutto sommato, almeno dalla parte esterna, ma anche la parte interna, ci sono state naturalmente degli aggiornamenti, delle ristrutturazioni, però Sibelius l'ha vista così. Questo è il lato levante, la facciata principale è quella posteriore, diciamo, questa. C'è bisogno che usi la pennetta? No, lo capite? No, no, no. Ecco perché si chiama Villa Amalia, perché nella facciata posteriore, dove c'è l'ingresso principale, ci sono con delle tessere di marmi presi nell'Ottocento a Roma e a Pompei dai proprietari, o comprate o ritrovate, c'è proprio la scritta Amalia, che era la moglie dell'ultimo Molfino proprietario di questa casa. Nella scala, qui, dove c'ho la freccetta, potete vedere le stesse frammenti di marmo che formano come una specie di decorazione parietale, mentre al piano nobile, il piano superiore, poi una casa di tre piani, diciamo, quindi però un piano è seminterrato, due piani fuori terra, ci sono delle tempere, perché non sono veri e propri affreschi, sono delle tempere, qui vediamo il soffitto con delle decorazioni che richiamano vagamente, decorazioni romane o pompeiane, delle antiche, e poi due tondi che sono Dante e Virgilio, che poi torneranno fuori in seguito. Queste sono altre vedute della casa, che voi sicuramente avrete visto se siete passati per andare a San Maurizio, la casa è proprio lì, di fronte, nella collina, proprio appena fuori Rapallo, la si vede semisommersa dagli alberi, adesso meno, perché c'è stata una grande pulizia fatta da nuovi proprietari, e comunque ha il suo stesso aspetto ottocentesco. Vorrei cominciare con questa fotografia. Vittoria Molfino e la famiglia, primi del Novecento a Villa Maglia, sullo sfondo il teatrino coperto. Allora, Vittoria Molfino è la mia bisnonna, ed è questa signora col vestito bianco e nero seduta qui davanti. Al suo fianco c'è una figlia e il marito, che si chiamava Antonio Clemente De Ferrari, da cui anch'io De Ferrari, per l'appunto, alle sue spalle con la paglietta chiara. Come vedete, c'era un parco rigoglioso, anche ben tenuto, perché c'erano diverse famiglie di contadini, una volta si chiamavano manenti, di contadini che lavoravano la terra, ci vivevano naturalmente con i prodotti della terra, olivi, vino, alberi da frutta, di cui parla anche Sibelius, quando parla di profumi, di fiori. E in questo giardino c'era una bella uccelliera, c'era un pavone, fiori, di nuovo, alberi anche essenze importate, ci sono degli alberi di canfora, adesso ne sopravvive uno. E quella costruzione che si vede laggiù, in fondo, dove c'è lo stemma del grifone, che era poi lo stemma a Sereto, perché questa casa era originariamente di proprietà a Sereto, non si capisce tanto bene, ma insomma, era un teatrino, un teatrino coperto, dove i proprietari, durante il VII e l'Ottocento, facevano spettacoli teatrali, talvolta scritti da loro stessi, infatti ho trovato delle specie di sceneggiature, insomma, ottocentesche, tipo foieton, diciamo, abbastanza illegibili, però divertenti nel senso di i buoni te li ufano sempre dopo avere sconfitto tutta una riga di calamità e di cattivi, cattivissimi. E c'era questo teatrino coperto e nella stessa villa, nello stesso giardino, un po' più lontano, c'era anche un teatro cosiddetto di verzura, cioè un anfiteatro. Circondato da una corona di cipressi, dove adesso si possono vedere soltanto purtroppo dei ruderi, insomma, perché, e tra l'altro è anche un po' pericoloso, perché non è messo in sicurezza, anche se poi è stato scambiato da proprietari degli ultimi anni, del Novecento, con il comune di Rapallo, quindi la manutenzione, in teoria la dovrebbe fare il comune di Rapallo, però non abbiamo avuto questa fortuna. E vicino c'era il famoso cimitero dei cani, che voi ne avete sentito parlare, è stato il primo in Europa cimitero dedicato esclusivamente ai cani, che erano i cani della famiglia Molfino, con tanto di lapidi e di piccoli cipi commemorativi. Qualche volta le fotografie, c'era una piccola fotografia. A questo cimitero dei cani, Carlo Riva ha dedicato un piccolo libretto con fotografie, perché ora purtroppo il cimitero dei cani è stato distrutto, non esiste più, l'antico cimitero dei cani, di cui Molfino si erano occupati. Non esiste più, non c'è più niente, c'è passata una strada sopra, quindi è andato tutto a remengo. Quindi c'è questo libretto di Carlo Riva che si chiama Piccola antologia di Spoon River. Però adesso volevo passare a raccontarvi un po' la storia di questa famiglia Molfino, che era una famiglia molto antica. La prima menzione dei Molfino è di questo cartolare del 1272, il 17 di giugno, un documento notarile in cui viene citato un tale Precivali, figlio, Quondam Ansaldi de Morfino. Io devo questa scoperta alla mia professoressa di paleografia, che è all'Archivio di Stato di Genova. Quindi dal 1272 esisteva il cognome Molfino, io qui ho fatto anche un albero genealogico, però credo che non vediate praticamente niente, quindi andiamo avanti. E andiamo a questa diapositiva. Erano un'importante famiglia originaria del cosiddetto canale di Rapallo, cioè la valle del torrente Boate. erano un ramo in particolare, era a San Martino di Noceto, e tutti i maschi della famiglia, quasi tutti, tutti quelli che potevano, lavoravano nell'arte dei monetieri, che poi fu l'origine della loro fortuna. Ora un piccolo escursus su che cos'era l'arte dei monetieri. era una corporazione, era la corporazione di tutti quelli che lavoravano nella Zecca di Genova. Quindi era molto stratificata, nel senso che c'erano sovrintendenti, c'erano dagli operai in su, insomma, diciamo, molto gerarchizzata, e dovevano tutti i lavoranti, tutti coloro che erano impiegati nella Zecca, dovevano godere dell'assoluta fiducia del governo della Repubblica, perché erano responsabili del titolo delle monete che coniavano, cioè della quantità di metallo prezioso che doveva assolutamente essere presente. Quindi questa corporazione dette ai suoi dipendenti, diciamo così, a chi ci lavorava, la possibilità di ereditare la carica, e infatti Molfino ci lavorarono per secoli, nel 1600 ce ne erano circa una cinquantina, e tra l'altro ebbero l'esenzione dalle gabelle, per cui accumularono notevoli fortune che poi investirono in case, in terreni, in molini, e il cognome Molfino è molto diffuso nella zona del Tiguglio, e si trovano Molfino di tutti i ceti sociali, diciamo, come si trovavano allora. Infatti, un ramo dei Molfino è iscritto già dal 1528 nell'albergo dei Franchi, nelle Liber Civitatis, che era all'albergo della nobiltà genovese con la riforma di Andrea Doria. In questo ramo si trova che non è un ramo che centra direttamente con noi, diciamo, però c'è un personaggio abbastanza famoso che è il medico-filosofo Gio Agostino Molfino che scrisse un trattato sulle origini di Rapallo, un trattato piuttosto fantasioso, diciamo così, e però soprattutto la storia del santuario di Montallegro. Notizie, ho messo anche le notizie dove si trovano la Biblioteca Economica, la Società Economica di Chiavari, oltre che all'Archivio di Stato di Genova, insomma, in vari fonti notarili, in vari fonti a stampa e manoscritti. Tra 600 e 700 in Molfino abitavano tra Rapallo e Genova. A Rapallo avevano lo loro insediamento principale, naturalmente, però siccome la famiglia si era estesa e soprattutto grazie appunto a queste ricchezze guadagnate con la zecca, con il lavoro nella zecca, vi furono parecchi notai, tra cui un notaio Domenico Molfino che ha lavorato tantissimo, infatti si trovano molti documenti insomma in questo notaio, e avvocati, giudici, tra cui per esempio Matteo 1651-1674 che sposa Camilla, la nipote del medico famoso per chi è di questa zona, ma anche non solo di questa zona, Fortunio Liceti. Allora, altro breve escursus su Fortunio Liceti corrispondente di Galileo. Fortunio Liceti praticamente diciamo nacque in una notte tempestosa nel tragitto via nave tra Recco e Rapallo e il padre che era un noto medico gli fabbricò una specie di incubatrice cioè lo mise siccome era nato prematuro lo mise in una scatola tutto tappezzata di cotone di panni caldi e lo salvò naturalmente questa dice la leggenda racconta la leggenda che Fortunio si chiamò forse Fortunio proprio perché scampò diciamo da una morte precoce era un allora la medicina e la filosofia andavano cioè i medici erano anche filosofi e filosofi e medici praticamente erano studi che andavano di pari passo e scrisse diversi trattati con Galileo lui era un accademico lui insegnò a Pisa insegnò a Bologna a Padova dove poi gli era essere un monumento nel 1777 era però di tendenze diciamo accademiche quindi aristoteliche e quindi nella corrispondenza con Galileo si può notare un bello scontro di posizioni rispetto alle nuove scoperte del grande scienziato che diciamo ha riformato la cosmologia e la cosmogonia mentre Fortunio Liceti vedeva il mondo come Dante con la terra al centro e tutte le sfere celestiche giravano intorno qui ci sono poi alcuni titoli dei suoi libri Demostruorum Causis Nature Differensis praticamente noi potremmo dire le differenze genetiche dei le differenze genetiche degli animali poi un altro che la dice lunga De Spontaneo Viventium Mortu cioè la nascita spontanea degli animali inferiori non aveva ancora non era ancora stata scoperta la nascita diciamo la sessuazione anche negli animali non so nelle amebe nei microbi nei va bene arriviamo un po' di corsa al Settecento il Settecento è per i Molfino un secolo importantissimo intanto è una famiglia che grazie ai suoi diciamo alle sue ricchezze però anche alla sua cultura è una famiglia in ascesa e verso la fine del Settecento come saprete c'è una grossa crisi politica nella Repubblica Aristocratica di Genova che viene c'è una rivoluzione si può dire e viene instaurata la Repubblica Democratica i Molfino frequentavano erano di queste tendenze giacobine radicali soprattutto Giorgio Ambrogio ma anche suo padre Matteo Gaetano che fu un celebre avvocato 1691 1766 e aveva un grande interesse per la cultura illuminista di provenienza francese questo piatto questo piatto che viene qui raffigurato è un piatto nuziale direi e celebra il matrimonio tra Giorgio Ambrogio senior di cui parlerò che era un giure consulto figlio di Matteo Gaetano e Anna Assereto la sorella di Giuseppe senatore e politico sapete che a Rapallo c'è corso Giuseppe Assereto e qui per la prima volta nomino gli Assereti di Assereto era una famiglia che era la proprietaria della villa di cui abbiamo parlato era stata comperata dal padre di Giuseppe che aveva la bellezza di 12 figli e Giuseppe fece una ah no qui poi passiamo va bene Matteo Gaetano qui va bene torno un attimo indietro Matteo Gaetano perché adesso purtroppo nella famiglia Molfino ogni generazione riprendeva il nome del nonno quindi ci sono due Mattei Gaetani due Giorgi Ambrogi e non so quanti Fortuni comunque questo Matteo Gaetano di cui parla questa diapositiva fu un celebre avvocato appunto morì nel 1766 patrocinò molte cause di nobili famiglie genovesi cause che duravano decenni ed erano anche evidentemente molto costose quindi grazie anche alla sua professione cominciò a raccogliere documenti e libri soprattutto di carattere giuridico ma non solo poi lo vedremo meglio dopo aveva anche quando qualcuno non pagava si faceva pagare così per così dire in natura cioè in beni in beni però i beni culturali no? poi lo vedremo meglio dopo sposò la nipote di Domenico Molfino il famoso notario rapallese e con lui con Matteo Gaetano senior inizia la collezione bibliografica della famiglia dunque verso la fine del settecento come dicevo prima nel 1797 cade la Repubblica aristocratica di Genova e nasce la Repubblica Ligure Napoleone e il suo esercito e la Francia sono gli elementi chiave di questa trasformazione che vede però anche degli coinvolti degli elementi locali infatti anche a Genova e nelle riviere esistevano dei circoli pre-risorgimentali pre-carbonari diciamo in cui i patrioti tendevano diciamo all'abbattimento o comunque al superamento delle vecchie oligarchie aristocratiche e tendevano alla unificazione italiana no? quindi inizia così il risorgimento con questi circoli clandestini anche perseguitati dalla polizia e Giorgio Ambrogio Molfino figlio dell'avvocato di cui vi dicevo prima e suo figlio Matteo Gaetano Junior parteciparono attivamente alla caduta della Repubblica aristocratica e all'estaurazione della Repubblica della Repubblica Ligure della Repubblica Democratica anche in forza del legame con Giuseppe Assereto che era lo zio era cognato di Giorgio Ambrogio e zio di Matteo Gaetano avendo sposato appunto Giorgio Ambrogio avendo sposato sua sorella questo Giorgio Ambrogio Senior fu un giure consulto qui ci spingiamo fino nel 1823 e partecipò dopo aver appunto essere stato partecipe presente nei moti che portarono all'estaurazione della Repubblica Ligure partecipò anche agli organi politici al suo direttorio con Corvetto e altri famosi personaggi insomma e il direttorio era diciamo il Parlamento non il Parlamento era il governo della Repubblica Ligure ebbe poi molte altre cariche anche poi con Napoleone Consiglio Civile Legion d'Onore con Napoleone nel 1800 e Consigliere di Corte d'Appello nel 1805 poi tramontata la Repubblica Ligure e instaurato poi il Regno di Savoia il Regno di Sardegna mantenne comunque un suo spessore politico tant'è che fu nominato senatore nonostante i suoi trascorsi repubblicani e insieme con Giuseppe Assereto anche lui nonostante i suoi trascorsi repubblicani Giorgio Ambrogio Molfino Senior continuò la collezione bibliografica della famiglia che fu arricchita con la grande la grande enciclopedia l'opera più famosa diciamo dell'illuminismo francese e di Dideroy d'Alembert che ora è nella sede della provincia in Largo Eros Lanfranco nella ex provincia adesso vabbè non si sa più come chiamarla adesso possiamo parlare un attimo di Giuseppe Assereto Giuseppe Assereto come abbiamo detto era il proprietario della villa della villa poi Molfino di cui abbiamo visto le foto ed è una figura di interesse politico e culturale non soltanto locale non solo rapallese o genovese o ligure perché fu ambasciatore per la Repubblica aristocratica in Savoia a Basilea e in altre capitali di stati esteri prima del 1796 però anche lui nutriva sentimenti filofrancesi e giacobini e quindi frequentava questi ambienti politici e poi essendo anche generale essendo uomo d'arme partecipò anche ai fatti militari che portarono alla instaurazione della Repubblica Ligure e soprattutto poi alla sua difesa contro gli austriaci perché ci fu poi naturalmente la reazione a livello locale i Viva Maria che gli saccheggiarono la casa c'è una citazione in un documento in cui si dice che venne saccheggiata la sua villa di Rapallo dai Viva Maria che erano delle bande diciamo legate all'ancien regime legate all'aristocrazia spesso anche alla chiesa e che scorrazzavano quando potevano facendo anche razzia di tutto quello che potevano ora non si sa se la casa che venne saccheggiata fosse proprio quella di cui parliamo oppure un'altra casa perché lui aveva anche casa a Rapallo insomma aveva diverse proprietà comunque il generale Assereto fu impegnato in azioni militari contro gli austriaci come si evince dal carteggio con Marco Federici che era un patriota carbonaro e questo carteggio è alla biblioteca universitaria di Genova e poi di lui parla anche un poeta rivoluzionario che si chiama soprannominato diciamo a nome d'arte Labindo cioè Giovanni Fantoni in 15 lettere al nipote Matteo Molfino queste lettere furono recensite da Carducci nel 1899 quindi ebbero una certa risonanza Assereto dopo la guerra diciamo durante la dominazione francese perché poi la Repubblica Ligure venne assorbita dall'impero napoleonico diventò nel 1805 sindaco cioè maire di Rapallo e poi come ho detto anche sotto i Savoia mantenne una carica come senatore del regno di Sardegna Assereto infatti la testimonia della costruzione del teatrino di Verzura nella villa e del teatro coperto aveva una enorme passione per il teatro e tant'è che anche a Rapallo quando forse nel periodo in cui lui aveva il potere era il sindaco insomma fece destinare uno dei due oratori non mi ricordo più se quello dei bianchi o quello dei neri a pubblica rappresentazioni con grande scandalo e dispetto della fazione invece filo della fazione filo aristocratica e soprattutto della chiesa perché era un oratorio ovviamente venne sconsacrato morì a Rapallo nel 1830 e qui nel cimitero di Rapallo ecco la villa di nuovo nel cimitero di Rapallo si può vedere un cippo proprio non so se ci avete mai fatto caso dedicato a Giuseppe a Sereto in cui si vede un uomo anzi un angelo un angelo che piange la morte di questo illustre concittadino torniamo di nuovo a Imolfino allora e di nuovo a un Matteo Gaetano junior stavolta figlio di quel Giorgio Ambrogio di cui vi dicevo prima fu un avvocato e che morì nel 1859 quindi qui ci inoltriamo nell'Ottocento e fu un nipote fu un nipote prediletto e anche erede spirituale e anche materiale dello zio Giuseppe a Sereto il quale morì non era sposato morì senza figli e quindi tutto il suo patrimonio poi passò a Matteo Gaetano Molfino Matteo Gaetano ebbe anche una carriera come cioè una carriera un'attività più che una carriera come giornalista infatti da giovanissimo diede vita con Gaetano Marrè e altri pubblicisti di tendenze politiche giacobine a pubblicazioni come il censore italiano e il circolo costituzionale del comune di Genova poi fu ebbe cariche pubbliche fu avvocato civico segretario decurionale e comunale di Genova si occupò dell'infanzia si occupò delle scuole fece costruire l'acquedotto e soprattutto i giardini con il barabino i giardini dell'acquasola sapete che l'acquasola sotto c'era un enorme ossario dovuto alla peste del seicento venne completamente restaurato rifatto eccetera e vennero costruiti i giardini dove i genovesi poi per i genovesi furono polmone verde del centro della città insomma un vanto un vanto di Matteo Gaetano Molfino Matteo Gaetano era anche un grande bibliofilo uno aveva un amore per i libri come dire esagerato nel senso che ci sono testimonianze qualche documento di quelli che ho consultato in cui si dice come lui frequentasse continuamente mercati mercatini e soprattutto poi col cambiamento dal vecchio regime aristocratico al nuovo regime molte grandi collezioni librarie vennero smembrate vennero vendute eccetera lui andava e raccoglieva comprava e costituì questa grande collezione bibliografica di cui il fiore all'occhiello si può dire è il codice Molfino poi vi dirò quando parleremo della dispersione di queste collezioni dove trovarlo il codice Molfino è il primo manoscritto che si conosca in lingua genovese è un codice membranaceo cioè di pergamena è datato XIV secolo 1300 praticamente l'epoca di Dante e consta di una una serie di poesie scritte in genovese e di ritmi latini ogni tanto all'archivio del comune di Genova dove appunto c'è dove è all'archivio storico del comune in palazzo ducale oppure all'archivio di stato l'ultima volta è stato esposto in una mostra all'archivio di stato ed è molto interessante per gli studiosi della lingua perché dimostra come il volgare avesse tante varianti cioè non solo quindi il toscano il fiorentino non solo Dante ma ogni regione avesse una sua variante e queste poesie appunto scritte in dialetto genovese ora sono di argomento diciamo in genere non ecclesiastico ma insomma probabilmente l'autore è un anonimo ma probabilmente era un ecclesiastico non si sa bene non si è ancora scoperto chi fosse e quindi diciamo più che il contenuto vale proprio il discorso del linguaggio tornando a Matteo Gaetano fu chiamato a far parte della società di storia patria torinese già fin dalla sua fondazione cioè dal 1833 quindi lui era conosciuto come patriota come studioso come come bibliofilo aveva e come bibliofilo appunto contribuì con il padre Spotorno e la società di storia patria genovese contribuì anche alla fece molta attività pubblica all'inizio la costruzione della biblioteca Berio inoltre fece trascrivere i codici colombiani i quali codici colombiani furono esposti in palazzo ducale dentro una specie di monumentino con la statuetta di Colombo un monumento di marmo una specie di tempietto diciamo di marmo bianco opera di Barabino fu amico di Foscolo e del già citato poeta Labindo e partecipò anche per esempio alla società dei raggi le istanze unioniste vuol dire verso che tendenzialmente verso l'unità d'Italia arriviamo quindi al Giorgio Ambrogio Junior che è l'ultimo dei Molfino di questa linea di discendenza Molfino proprietari della casa Molfino come vi ho detto ve lo ripeto diciamo la proprietà a Sereto divenne Molfino alla morte di Giuseppe a Sereto nel 1830 quindi il padre di questo Giorgio Ambrogio cioè quindi Matteo Gaetano di cui abbiamo parlato adesso e Giorgio Ambrogio furono gli ultimi due Molfino proprietari di questa magione la madre era la madre di Giorgio Ambrogio quindi la moglie di Matteo Gaetano era la Maria Teresa era la figlia di un famoso collezionista di monete antiche Gaetano Avignone la sorella anzi scusate non la figlia era la sorella di Gaetano Avignone ora questa collezione di monete antiche c'è un piccolo mistero nel senso che non si sa bene se sia finita alla cassa di risparmio come io avevo letto parecchi anni fa in un grande volume dedicato alla storia della moneta di Genova oppure come mi dicono si è andata dispersa era una collezione molto importante e come vedete praticamente tra collezionisti si sposavano tra collezionisti cioè evidentemente gli uomini di queste famiglie e le loro mogli si immagina o che non fossero solo dei tramiti coltivavano queste passioni che nell'ottocento assunsero anche dei risvolti patriottici avevano anche un senso di riscoperta delle antiche glorie non solo della Liguria ma anche dell'Italia e quindi avevano anche tutto un valore un peso culturale in qualche maniera e infatti c'è stato recentemente un convegno in cui viene che si chiamava è stato un convegno Fragmenta Colligite in cui viene sottolineato questo aspetto culturale del collezionismo minore dell'ottocento qui non si tratta delle grandi famiglie degli Spinola dei Doria si tratta di borghesi anche se ricchi sono benestanti cospicui che però condividevano questa passione per il collezionismo e tant'è vero che questi Molfino lo testimoniano Giorgio Ambrogio studiò da avvocato fu consigliere comunale a Rapallo e a Genova e poi consigliere provinciale e fu deputato per sette legislature per la circoscrizione di Rapallo dalla ottava alla quattordicesima cioè ci spingiamo fino verso gli anni ottanta dell'ottocento sedette come tradizione della famiglia nel partito diciamo liberale ma alla sinistra il partito liberale era il partito la sinistra liberale era la corrente dove sedevano anche Mazzini Garibaldi tra l'altro il padre di questo Giorgio Ambrogio era amico del padre di Mazzini con cui aveva collaborato a quei giornali pre-rivoluzionari che si stampavano clandestinamente a Genova intorno al 1800 insomma fu amministratore di molte opere pie e fu molto scrupoloso nel difendere gli interessi dei suoi elettori rapalesi ma anche della valle Fontana Buona e per esempio già allora si parlava di una già verso la fine dell'ottocento insomma non proprio alla fine dell'ottocento perché lui muore intorno al 1890 ma si parlava di una galleria che dovesse unire Rapallo con la Fontana Buona cent'anni e passa e di una strada che lui su cui lui la strada per Montallegro che poi passa Scollina e va in Fontana Buona lui si adoperò perché fosse modificata fosse insomma resa agibile per il traffico di allora no? Dunque sposò la moglie si chiamava Amalia Felletti era di Mantova non ebbe figli e quando morì non era in buone condizioni di salute infatti negli anni 83 82 83 gran parte del suo patrimonio liberario e come dirò dopo poi venne venduto e però nella sua vita Amalia ecco qui un suo ritratto ebbe una parte molto importante Amalia conosceva molto bene le lingue il tedesco soprattutto e ci accompagnava il marito nei suoi viaggi sia a Roma che anche a Pompei ci abbiamo delle agende in cui sono testimoniati piccoli episodi anedoti diciamo di questi viaggi sono agende molto schematiche soprattutto erano agende di lavoro per cui venivano annotati soprattutto gli appuntamenti di lavoro però per i viaggi sappiamo che loro fecero un viaggio a Pompei e quindi può darsi che una parte di quella collezione lapidea di marmi di frammenti di piccole statue eccetera provenisse proprio dagli scavi di Pompei che erano più o meno in corso all'epoca già in corso all'epoca interessante è un viaggio che fa la coppia in Europa nel 1872 siccome Giorgio Ambroggio era amministratore di opere pie e protettore di asili infantili questo viaggio era destinato a conoscere soprattutto non in Germania e Svizzera era destinato a conoscere la realtà degli asili dell'infanzia di queste nazioni perché tutte e due erano seguaci di Fröbel Fröbel è un grande pedagogo della prima metà dell'Ottocento tedesco l'inventore dei Kindergarten cioè il bambino non viene più visto come una bestiolina da Fröbel diciamo come una bestiolina da educare da punire da diciamo da da tirare su ma soprattutto con le maniere forti ma viene visto come un come parte della natura e quindi come già possessore nel suo nella sua interiorità della 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 coscienza della natura soprattutto attraverso il gioco il bambino può crescere può espandere questa sua potenzialità queste sue capacità e quindi il gioco è fondamentale per quanto riguarda la concezione di Fröbel di cui Giorgio Ambrogio e Amalia si fecero portatori per quello che poterono diciamo anche per quanto riguarda la loro gestione la loro sovrintendenza agli asili agli asili genovesi e dei Liguri questa è un'altra veduta della Villa Amalia io la chiamo Villa Amalia perché insomma mi piace perché poi il quadro di Amalia Amalia è una figura abbastanza affascinante una donna che non ha avuto figli probabilmente non era di salute molto ferma ma si occupava moltissimo appunto non solo dei bambini in questa veste un po' istituzionale ma abbiamo trovato per terra lì quando la casa si è stata svuotata un quadernetto un quadernetto in cui Amalia già molto anziana perché lei nasce e muore nel 1900 e quindi questo quadernetto è degli anni del 1887 1888 così lei era nata nel 1831 1831 mi sembra o 32 quindi era circa 70 anni dunque in questo quadernetto era un quadernetto scritto da un ragazzino che evidentemente era figlio di contadini della zona o addirittura delle case coloniche che facevano di contorno alla casa a cui Amalia insegnò a scrivere ed è emozionante vedere perché era una specie di diario di questo bambino che raccontava la sua vita di piccolo contadino aveva 9 10 anni scritto con una scrittura meravigliosa cioè sapessimo noi scrivere con questo corsivo elegantissimo no Amalia tra l'altro era la patrona la patronessa di un circolo di bella calligrafia quindi si dedicava proprio a questa arte e questo bambino scrive della sua vita vado a segare l'erba poi vado a mangiare e poi che cosa mangiavano che cosa facevano tutte le sue attività poi quando andava dalla signora la signora gli dava il panino con la carnina e insomma un bambino dell'ottocento della fine dell'ottocento che racconta un po' un piccolo pezzo della sua vita in qualche maniera dunque in questa villa fino a una certa epoca vennero custodita almeno una parte delle collezioni di libri di quadri di marmi di oggetti oltre che dei lapidi anche di piccoli frammenti di piccole statuette oppure non so piccole anfore o lucerne ricavate dagli scavi pompeiani e romani nel teatrino all'aperto e al coperto vi ho già detto e vi venivano fatte queste rappresentazioni per Amalia e Ambrogio e i suoi amici e quindi si può passare a parlare un attimo più approfonditamente delle collezioni allora nella mura esterna della villa questa è una foto vecchia erano state murate questi frammenti di lapidi erano circa una trentina di lapidi e di sculture non sembra che sono state poi studiate ecco vedete qui un'altra fotografia sono ci sono anche dei mattoni ci sono qua ora uso allora questo che si vede molto poco vabbè comunque è come dire la più questo e questa è la fenice cioè una piccola fenice che era un animale magico mitologico insomma e quest'altro più in basso invece è una specie di banchetto degli dei purtroppo la fenice è sopravvissuta il banchetto degli dei è stato rubato e dopo diversi furti perché la villa per diversi anni è rimasta vuota diciamo cioè io ci andavo periodicamente però non era abitata in continuità e quindi era abbastanza la merce di chiunque dopo una serie di furti anche dovuti a non si può dire l'incuria lì era la curia nel senso cioè la curia non la curia nel senso ecclesiastico la cura cioè un proprietario uno dei proprietari novecenteschi che si asportò le statue delle fontane del giardino per metterseli in casa sua insomma quindi voglio dire non era solo una questione di ladri di ladri di quelli che rubano e poi vanno a rivendere sono 32 frammenti di epigrafi e di sculture che sono state dichiarate ora di interesse archeologico dalla soprintendenza il professor Mennella che è un esperto di questo argomento forse il massimo esperto Ligure ha trovato siccome ci sono dei libri che trascrivono anche frammenti di scritture ha visto che in parte corrispondevano e combaciavano alcuni con altri frammenti di lapidi che e o di epigrafi che erano presenti a Roma nella prima metà dell'Ottocento a Villa Doria Panfili Passiamo adesso alla collezione bibliografica che come abbiamo visto è stata raccolta da diverse generazioni della famiglia Molfino specialmente scusate un attimo Matteo Gaetano Junior cioè quello dell'Ottocento grande bibliofilo e suo figlio Giorgio Ambrosio sono centinaia e centinaia di manoscritti e di codici di cui vi ho già parlato del codice Molfino con i componimenti in genovese e il latino ma ci sono altrettante opere di grandissimo valore tra cui per esempio le memorie della città di Genova l'unica copia esistente sono sei volumi l'unica copia esistente di Giambattista Cicala che fu governatore di Corsica nel 1600 e che annota in modo cronachistico ma molto minuzioso avvenimenti legati alla storia della città della sua epoca poi ci sono studi genealogici genealogie delle più importanti famiglie nobili genovesi statuti di antiche comunità e opere di valore storico storie della chiesa insomma questa collezione bibliografica fu quando Giorgio Ambrogio Junior nel 1882 decise di venderla fu valutata da il regio deputato Astengo Carlo Astengo che era il regio delegato mandato dallo Stato proprio dal regno e venne valutata e si decise che era meritevole di essere acquisita da enti pubblici genovesi una parte il comune e questi 81 manoscritti fanno parte del fondo Molfino nell'archivio storico del comune di Genova una parte invece andò alla biblioteca universitaria purtroppo però non è più possibile sapere quali sono i libri appartenuti dei Molfino perché vennero mescolati con tutti gli altri libri antichi posseduti dalla biblioteca universitaria quindi sono lì in mezzo nel fondo libri antichi ma non si può sapere quali fossero dei Molfino e quali no e una parte venne acquisita dalla provincia di Genova soprattutto come ho già detto la grande enciclopedia di De Roe d'Alembert poi altri volumi di carattere giuridico e diplomatico e il dizionario di storiche critiche di Pierre Bale un'opera che testimonia molto bene il pensiero illuministico e razionalista sempre nella villa c'era anche questo dicono le fonti orali perché non abbiamo documenti scritti che lo testimonino cioè la tradizione di famiglia dice che veniva c'era una bellissima biblioteca dantesca per questo le due immagini di Dante e di Virgilio con delle edizioni della Divina Commedia molto pregiate fu pare fu venduta verso gli anni trenta del novecento i Molfino possedevano anche una ricca quadreria la quadreria probabilmente non veniva conservata nella villa ai Monti anche perché la villa ai Monti ha nel piano nobile soprattutto poco spazio diciamo da appendere quadri ci sono moltissime finestre molto grandi e quindi e questa quadreria era una quadreria di decine decine di quadri quindi veniva conservata e infatti ci sono testimonianze in tal senso nella casa di dei Molfino a Rapallo che era in piazza Cavour quella che adesso è piazza Cavour nel quel palazzo dove c'è la galleria sotto quello lì era tutto un palazzo Molfino varie cuginanze non solo della stessa famiglia ma insomma e tutto il piano e c'era questa questa grande quadreria di cui sono stati testimoniati ora questo che vi faccio che vedete qui alle mie spalle è un quadro attribuito ad Andrea Semino ma in realtà è della cerchia di Vandic perché l'originale Vandicchiano si trova all'Ermitage e questa è una copia presumibilmente estremamente fedele all'originale però le attribuzioni ottocentesche erano ovviamente fatte in una certa maniera e per esempio c'è un documento che vi mostro subito dopo dove in questa quadreria ci sono delle attribuzioni a pittori come appunto Grechetto Vorzone Tavella Il Sestri Piola La scuola di Valerio Castello Paggi Tempesta Cambiaso Bernardo Castello insomma tutti i pittori secenteschi il che testimonierebbe come l'ascesa della famiglia Molfino attraverso anche l'acquisizione di quadri avvenne proprio a cavallo tra 600 e 700 la sua scesa economica culturale politica e via discorrendo infatti in questo elenco dei quadri che fa parte di una divisione tra i due fratelli Molfino Matteo Gaetano di cui abbiamo parlato e Paolo del 1831 probabilmente in seguito alla morte di Giuseppe Asereto e vengono vengono ci sono queste questo tipo di attribuzioni ma diciamo come dire una sorpresa è stata la scoperta che anche questo meraviglioso quadro di Antonello da Messina molto famoso l'uomo dal berretto rosso che adesso è alla National Gallery faceva parte della galleria della quadreria Molfino questa è una scoperta di Roberto Santamaria Roberto Santamaria cosa? a me è arrivato ben niente di tutto di tutto ciò vabbè una scoperta di Roberto Santamaria che è in forza l'archivio di stato di Genova è uno studioso di storia dell'arte oltre che archivista che ha ricostruito la storia di questo quadro acquisito dalla famiglia Spinola Gio Filippo Spinola a Ferrara nei beni di Francesco Maria Spinola inventario del 1727 ed entra in possesso dell'avvocato Matteo Gaetano Molfino Senior il primo avvocato di cui vi ho parlato del settecento quello che aveva che patrocinava cause per le famiglie nobili di Genova perché gli Spinola non lo pagarono allora lui andò e si beccò e si beccò l'Antonello da Messina che allora naturalmente non era un quadro famoso era un ritratto d'uomo ritratto d'uomo di scuola antica appunto e probabilmente qualcos'altro ma insomma comunque venne venne disegnato da Giovanni Battista Cavalcaselle noto studioso e critico storico dell'arte nel 1871 nella casa dell'avvocato Molfino a Rapallo forse viene appunto citato come in quell'elenco che vi ho fatto vedere prima come testa rappresentante un ritratto molto antico buono questo era il giudizio di chi ha stilato questo elenco quindi è chiaro che può essere quello può essere qualunque altra cosa però è molto presumibilmente sia per il fatto che è stato disegnato da Cavalcaselle sia perché è stato venduto nel 1883 un anno dopo i libri dall'avvocato Molfino Giorgio Ambrogio in coincidenza appunto con la vendita della biblioteca venduto dalla Lewis Foundation e quindi questo bellissimo quadro ha preso la via dell'Inghilterra e lì è rimasto e tuttora però è possibile andarlo a vederla alla National Gallery per fortuna insomma come peraltro sono godibili anche i libri molte molte di queste collezioni la parte migliore diciamo di queste collezioni è godibile fruibile dal pubblico io avrei praticamente concluso come conclusione posso dire questo che questo collezionismo come leggete lì insomma non era soltanto lo sbocco all'ascesa sociale della singola famiglia ma aveva come ho detto anche forse prima aveva anche delle caratteristiche di trasformazione sociale politica generale cioè di una fruizione di beni di cultura a una cittadinanza più allargata che non fosse solo l'elite e anche la conoscenza della storia della storia genovese italiana e delle sue testimonianze materiali io avrei finito posso aggiungere solo una piccola una piccola cosa che riguarda Gli Assereto diciamo che Gli Assereto ho parlato di Giuseppe Assereto ma quando morì Matteo Gaetano Molfino il padre dell'ultimo Giorgio Ambrogio quindi morì negli anni 50 dell'Ottocento e Canale cioè storico genovese Michele Canale scrisse un'orazione funebre per il suo amico erano amici in cui viene citata una ascendenza addirittura non solo a Giuseppe Assereto come sappiamo effettivamente parentela ci fu parentela perché di matrimonio ma a Biagio Assereto famoso famosissimo per chi lo conosce famoso comandante di navi recchese la famiglia Assereto si diffuse poi oltre che a Rapallo anche a Recco e nel ponente Ligure che è un personaggio di cui voglio parlarvi perché veramente merita Biagio era un giovane molto prestante molto aitante tant'è che venne notato da Francesco Grimaldi che lo prese al suo servizio come paggio dunque lo fece studiare lo fece studiare da nottaio prima doveva fare l'orafo poi lo fece studiare da nottaio e infatti qui abbiamo fatto un salto indietro di parecchi secoli perché Biagio Assereto nasce verso l'anno 80 del 1300 e la sua maturazione diciamo le sue imprese più importanti sono della prima metà del 400 dunque Biagio Assereto fece effettivamente il notaio a porto Maurizio però poi fu al servizio dei Grimaldi sposò una donna ricca divenne patrono di navi e fu come dire patrocinò e comandò come ammiraglio diverse imprese militari soprattutto contro i fiorentini intorno agli anni 2427 ma la sua impresa più famosa fu quella di avere salvato Francesco Grimaldi che era stato assediato da Alfonso V di Aragona a Gaeta e con una battaglia navale lui Biagio Assereto aveva una piccola flotta ma molto efficiente e aveva motivato molto bene i suoi marinai nel senso che tutto quello che si riesce a recuperare come bottino viene diviso fra tutti e quindi questa piccola flotta sconfisse la enorme e pesante flotta di Alfonso V d'Aragona fece prigioniere tutti quelli che non morirono quindi 300 cavalieri e l'infante di Spagna e il re praticamente no? l'erede li portò a Genova e poi scrisse una lettera che è molto bella che è l'archivio di Stato in dialetto genovese per comunicare alla Repubblica aristocratica diciamo insomma al governo e anche agli Spinola perché lui faceva parte di un partito filo filo milanese dei visconti degli Spinola insomma erano filo milanesi per comunicare la vittoria una lettera che è esemplare per modestia con un tono a me su chi no? cioè un po' come vabbè un altro celebre anedoto che ora non vi cito un understatement veramente stupendo poi vabbè naturalmente ci fu un ricchissimo bottino che venne diviso fra tutti i membri dell'equipaggio e Biaggio venne da Milano dai visconti venne affiliato alla famiglia visconti e insignito del titolo di visconte e gli fu affidato il feudo di Serravalle dove poi morì però parecchi anni dopo dopo aver compiuto altre imprese militari soprattutto contro Venezia sempre vittoriose cioè era veramente molto molto o fortunato o non so insomma o bravo ecco o astuto anche perché sconfiggere Venezia nella laguna di Venezia cioè non è un'impresa da poco e poi si ritirò nel 1452 dalle imprese belliche nel suo feudo e si dedicò agli studi letterari che evidentemente erano la sua passione e lì è testimoniata l'amicizia con Eneo Silvio Piccolomini che fu poi Papa Pio II e lì morì intorno alla metà del 1400 io ho finito grazie 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 grazie